Extraestate è offerta da Amici di Teleromagna buongiorno, buon weekend, ben ritrovati. Extraestate è la nostra guida agli eventi e non solo in Romagna, in regione, ma in grandi approfondimenti con gli amici del Corriere, come sempre ne dico, è il terz'ultimo weekend, saremo insieme anche la prossima settimana e quella successiva al Capodanno estivo, al Ferragosto, insomma davvero ancora tante curiosità da leggere insieme, da sfogliare, questa è la copertina del numero di questo fine settimana. È il primo weekend pieno del mese di agosto, ma è anche l'ultimo weekend di Tokyo 2020, i giochi olimpici arrivati in ritardo di un anno, ne abbiamo parlato nelle precedenti puntate, con Simone Rinieri per quel che riguarda la pallavolo e gli sport di squadra, che purtroppo sono andati piuttosto male negli ultimi giorni a Tokyo. Settimana scorsa un campione olimpico a Pechino come Andrea Minguzzi nella lotta, oggi invece passiamo all'atletica, la regina di tutte le discipline, soprattutto dei giochi. E allora è con noi Margherita Magnani, la saluto e le ringrazio. Ciao Margherita, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi, giochi in casa, perché insomma tu Cesenate Doc hai partecipato cinque anni fa alle Olimpiadi di Rio in Brasile, nella gara dei 1500, quindi il mezzofondo, insomma, di cui si è parlato anche in questi giorni, ma naturalmente sono le giornate soprattutto dedicate a un velocista come Jacobs, che ha vinto l'oro domenica, proprio qualche minuto dopo la grande impresa invece di Tamberi nel salto in alto. Parleremo di questo, ma parleremo naturalmente anche dei tuoi ricordi, perché da Rio sono passati cinque anni, l'altro ieri in pratica. E allora comincerei da una foto, chiedo alla regia, guarda, ti ne faccio vedere subito una, perché credo sia piuttosto significativa, parlavamo della gara dei 1500, eccolo qua. Allora, detto che non sembrano passati cinque anni, perché sei informissima anche oggi, oggi che hai un ruolo, sei passata dall'altra parte della barricata, come consigliera Fidal, quindi della Federazione Italiana di Atletica Leggera, poi parleremo anche di questo. Ci racconti, torniamo in pista a Rio, torniamo indietro di cinque anni. Beh, diciamo che Rio ha rappresentato per me il coronamento di un sogno, perché penso che per qualsiasi atleta riuscire a prendere parte a un'Olimpiade sia proprio l'obiettivo di tutta la carriera. E' chiaro che poi vi sono atleti che hanno ambizioni maggiori, come Torto, Marcel Jacobs, che sono riusciti a vincere loro, quindi a raggiungere il gradino più importante di quella che penso sarà tutta la loro carriera agonistica, anche se mi auguro, avendo un'età relativamente giovane, nell'atletica leggera, di poterli rivedere sicuramente anche tra tre anni a Parigi. Il mio obiettivo era quello appunto di partecipare alle Olimpiadi. Non avevo ambizioni ovviamente di medaglia, ma essere riuscita a centrare la qualificazione in una specialità comunque come i 1500 metri, dominio delle atlete africane, è stato un grossissimo successo. Questa è la parte sportiva. Tu ti sei fermata alla batteria, insomma, no? Quindi quella è l'esperienza. Ecco, una chiosa su questo, cioè sul risultato sportivo è chiaro, parlavi di mezzo fondo, è ovvio regno, no? Delle africane soprattutto, assolutamente. Però da questo punto di vista, cosa ricordi della gara? Poi naturalmente voglio sapere qualche curiosità sul villaggio e non solo. Beh, è bellissimo, perché comunque quando corri in uno stadio strapieno di persone, cioè l'adrenalina è proprio a mille, già da due giorni prima non riuscivo quasi a dormire per l'emozione. È stato, c'è un momento unico e che ricorderò sicuramente per tutta la mia vita. Fantastico. Ecco, non esisteva il Covid, non c'era l'emergenza sanitaria, non c'era una pandemia in corso come oggi. È chiaro che vedere uno stadio come quello di Rio, pieno rispetto a oggi, faceva tutta la differenza del mondo. Dal punto di vista ambientale, che Olimpiadi sono state? Beh, il Brasile è poi una terra, diciamo, euforica, quindi sono state delle Olimpiadi all'insegna appunto anche del divertimento. Ricordo la musica nello stadio, ricordo questi cori all'interno del villaggio, quindi tutta, ricordo Copacabana per le gare di beach volley, tutta un'altra atmosfera rispetto a quella che stanno respirando i nostri atleti a Tokyo, in cui comunque non vi è la possibilità di uscire dal villaggio, gli stadi sono vuoti, quindi c'è sicuramente un'Olimpiade totalmente diversa, ma credo che dobbiamo comunque ritenerci fortunati di aver visto, di aver avuto comunque la possibilità di assistere a questi giochi olimpici in questo format. Anche perché c'era il rischio qualche giorno prima dell'inizio, no, che si potesse addirittura far saltare ancora l'appuntamento, dopo averlo posticipato di un anno, parliamo sempre di Tokyo 2020, ma insomma siamo avanti appunto di 12 mesi. Ecco, il ricordo più bello al di là della gara, perché poi tu eri a Rio non certo per fare una vacanza o per così divertirti in una terra, che dicevi bene, no, il Brasile, storicamente non proprio una terra gandiana se vogliamo, ma piuttosto colorata. Ecco, il ricordo dell'apertura, la cerimonia, appunto i colori, il villaggio soprattutto, hai qualche aneddoto? Beh, purtroppo la nazionale di atletica non partecipa quasi mai alle cerimonie di apertura, perché l'atletica è sempre collocata nella seconda parte del calendario e quindi solitamente alla cerimonia di chiusura. Infatti noi siamo arrivati, io avevo la gara nel primo giorno delle Olimpiadi dedicato all'atletica leggera, siamo arrivati nel villaggio tre giorni prima. Nel periodo precedente ci trovavamo con la nazionale a San Paolo a svolgere un cosiddetto training camp proprio in preparazione di queste Olimpiadi e credo che l'emozione più grande sia stata quella nel momento in cui ho messo piede all'interno del villaggio olimpico. È stata un'emozione fantastica perché il villaggio è indescrivibile, trovi un sacco di atleti provenienti da ogni stato del mondo, che prendono parte ad ogni disciplina sportiva. È stato veramente inenarrabile dalle sensazioni forti che ho provato in quell'occasione. Ecco, scherzando con Andrea Minguzzi settimana scorsa, dicevamo che il villaggio olimpico è innanzitutto un ripasso gratuito di geografia nei tempi della scuola perché naturalmente si scoprono bandiere che neanche nei tappini dei succhi di frutta si trovavano. E poi immagino il vedere da vicino campioni che invece si sognavano solo. Simona Rignieri parlava di Carl Lewis, tanto per fare un nome, visto che lo sport è lo stesso. Noi avevamo Usain Bolt in quel periodo. Erano gli anni di Bolt, effettivamente. Abbiamo trovato un valido sostituto, direi, a questi giochi olimpici. Altri atleti di riferimento? Qualche mito visto in carne ed ossa? Ricordo in quel periodo Federer al villaggio olimpico. I miei riferimenti in quel periodo sono stati Usain Bolt e Federer, perché poi il nuoto era già giunto al termine, quindi non ci è stata data la possibilità proprio nemmeno di incontrarci. Ricordo Federica Pellegrini che lasciava il villaggio proprio quando noi invece entravamo. E beh, insomma, non hai detto dei monumenti. Tra l'altro Federer compie gli anni proprio in quei giorni, noi d'agosto. Quindi era un po' quello che poi manca, la medaglia nel singolare, lui che ha vinto praticamente tutto. Ci fermiamo qualche istante, poi parliamo naturalmente e soprattutto di atletica. Sono curioso anche di parlare della preparazione, perché si viaggia, no? Credo provare a curare anche i minimi dettagli verso un appuntamento come questo. A tra poco. E allora, i giochi olimpici di Tokyo alla conclusione, sono proprio le ultimissime giornate di gara. Nel weekend precedente, quindi poco meno di una settimana fa, ci siamo tolti la grandissima soddisfazione di vincere il doppio oro, ma di questo ne parliamo tra poco. Torno a Rio, torno alla preparazione di una gara olimpica, di un appuntamento olimpico. Per chi fa atletica leggera, poi è chiaro ci sono mille discipline, com'è la preparazione? Cioè quanto tempo prima si comincia a mettere il mirino sulla gara? Beh, considerando che da qualche stagione a questa parte la qualifica olimpica è incentrata, diciamo, negli ultimi due anni, solitamente quasi tutti gli atleti iniziano a pianificare il loro avvicinamento ai giochi olimpici con due anni di anticipo, quindi programmano raduni nel periodo invernale, raduni nel periodo estivo. Per esempio nel mio caso, essendo una mezzofondista, quindi praticando una specialità di endurance, era molto importante pianificare dei raduni in quota durante la stagione, quindi in altura per consentire la creazione, diciamo, di un gruppo di lavoro che poi ti porterà a raggiungere la massima condizione proprio durante il periodo olimpico. Poi ovviamente per ogni specialità è diversa, nel caso dei velocisti è molto importante lo svolgimento invece di raduni collegiali, al fine anche di provare i cambi per le staffette, per la 4% in particolare e anche in parte per la 4x4. Un rimpianto ce l'hai? Se ripensi, non dico la tua carriera, abbiamo anche diverse foto, perché comunque non ti sei fermata, no, in precedenza non c'è stato solo Rio, non ci sono stati solo i giochi che sono chiaramente la punta dell'iceberg, però ripensandoci. Ma ripensamenti? Probabilmente non mi sarei operata al tendine d'Achille, perché dopo l'operazione al tendine effettuata nel 2019 ho avuto molti problemi fisici, comunque la meccanica di corsa si è modificata e da lì ho fatto fatica a ripartire e proprio per questo ho anche preso la decisione poco dopo di lasciare l'attività sportiva, perché dal mio punto di vista quando hai comunque svolto una carriera nel mio piccolo contraddistinto da 5 campionati del mondo, un'Olimpiadi... Abbiamo visto alcune foto. Eccetera, non aveva troppo diversi 8 titoli italiani assoluti, non aveva diverso senso continuare, ma non a un livello diciamo per me consono, quindi sì, l'unico rimpianto è che probabilmente non mi sarei sottoposto a questo intervento. Ecco, una carriera che se tu dovessi riassumere quella di atleta naturalmente, perché dicevamo oggi consigliera federale, insomma, tra l'altro tra pochissimo partirai giusto per i mondiali under 20. I mondiali junior Sanairobi, che sono in programma dal 16 agosto fino al 22 agosto, e io sarò capo delegazione in questa occasione. Perfetto, poi ci racconti. Dicevo, della tua carriera, anche i momenti più belli quali sono stati? Beh, immagino Rio, il primo posto... Il momento più bello è quando ho realizzato il minimo per qualificarmi per le Olimpiadi di Rio, e altri momenti belli, ricordo ovviamente tutte le varie edizioni dei campionati del mondo, in particolare poi i campionati del mondo indoor di Sopot nel 2014 in Polonia, in cui arrivai ottava e quindi sui 3000 metri fu un... fu il mio massimo... Guarda un po'. Esatto, esatto. Regia perfetta, regia perfetta. Colpo di fortuna clamoroso che abbiamo trovato, l'immagine corretta. Qui sono passati sette anni, non si direbbe, perché rapportando ieri e oggi, però insomma questo forse è stato il momento, oltre alla qualificazione, oltre alla partecipazione olimpica, più alto, migliore. Sì, perché arrivai comunque ottava in un mondiale sui 3000 metri indoor, particolarmente qualificato, in cui ci sono tante avversarie africane, che sono presenti anche in questi giochi olimpici. Arrivai dietro a persone come Sifana San, che ha già vinto l'oro nei 5000 metri, e è candidata anche alla vittoria dell'oro... L'olandese, giusto? Sì, l'olandese di origine etiope. Mostruosa. Mostruosa. È candidata anche alla vittoria su 1500 e su 10.000 metri, quindi realizzerebbe una tripletta storica. Era presente anche Ele Nobiri, che quest'anno è arrivata comunque terza nei 5000 metri, e quindi arrivare ottava in quel contesto ha rappresentato probabilmente il mio apice in tutta la carriera. Assolutamente. Fin qui la Margherita Magnani atleta, adesso si frema per qualche istante, e poi vediamo invece Margherita Magnani dietro alla scrivania, e naturalmente pronti per parlare anche e soprattutto di quello che è accaduto nello scorso weekend allo Stadio Olimpico di Tokyo. Tra poco. Quanta allegria ogni giorno con i nostri pet. Noi di Monge pensiamo solo al loro benessere, proprio come te. Da oltre 50 anni li nutriamo con l'amore e il giusto equilibrio nella ciotola, tra gusto e qualità made in Italy. Dai maestri della nutrizione, Monge Natural Super Premium, crocchette con la carne come primo ingrediente, e prebiotici per il benessere intestinale. E allora abbiamo parlato della partecipazione di Rio cinque anni fa, Sopot, quindi l'indoor di due anni prima, quindi del 2014, momenti più belli di una carriera che Margherita Magnani ha interrotto da poco, anche e soprattutto per motivi fisici, giusto? Sì, sì, sì. Infortunio, avevi pensato a Tokyo? Sì, io avevo pensato, infatti fino all'ultimo ci ho creduto, ci ho creduto nella possibilità, soprattutto anche in seguito allo slittamento di un anno per via del Covid, avevo pensato seriamente a provare una qualifica. purtroppo il tendine, soprattutto quando provavo a mettere le cosiddette scarpette chiodate in pista, cioè non andava, avevo continui dolori, avrei dovuto sottopormi a un nuovo intervento, e quindi inevitabilmente i tempi si sarebbero dilatati, e non sarei riuscita a raggiungere il periodo proprio per qualificarmi. Ecco, hai salutato la pista e sei passata dall'altra parte della barricata. Come mai? Era un qualcosa che così ti stuzzicava comunque? Come è nata questa idea, questo incarico? Avendo fatto, diciamo, essendo stata nel mondo dell'atletica per lungo tempo, ho sentito l'esigenza anche di voler apportare il mio contributo al mondo dell'atletica italiana e dello sport, e proprio per questo ho deciso di candidarmi come consigliere federale. Il 31 gennaio sono stata eletta in quota atleti. Nel nostro consiglio federale siamo 12 membri, di cui due sono eletti in quota atleti, quindi tra tesserati o ex-tesserati. E sono riuscita, diciamo, anche nel mio piccolo in questa impresa, e sono molto contenta perché, al di là della mia singola professione, perché comunque lavoro sempre nello sport, nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, e volevo anche rimanere nella nazionale italiana, in questa splendida atletica che ci troviamo davanti. Ecco, elezione gennaio 2021, giusto? Quindi diventi consigliera Fidal, come abbiamo giustamente scritto a fianco al tuo nome, cambia il presidente federale, e vi avessero detto, ma 5-6 mesi, tempo di arrivare in estate, e a Tokyo festeggeremo due medaglie d'oro. Tamberi, e va bene, una medaglia si poteva mettere in conto, era stato, tra l'altro tu siete amici, avete vissuto l'esperienza di Rio, eccetera. Vi avessero detto un oro nei 100 metri, probabilmente, avreste chiesto, non so, un esame antidoping a chi ve lo chiedeva, probabilmente, no? Non so. Sì, Jacobs ha fatto qualcosa di splendido. Già durante la stagione indoor, quando vinse i campionati europei sui 60 metri, aveva dimostrato di essere l'uomo da battere a livello continentale. Aveva iniziato la stagione al meeting di Savona, con un ottimo record italiano, poi, a causa di qualche problema fisico, aveva dovuto interrompere, diciamo, per circa tre settimane lo svolgimento di alcune competizioni, quindi non si era presentato al Golden Gala e in altre gare programmate, ma proprio per questo problema fisico. e quindi, diciamo, nessuno si aspettava prima delle Olimpiadi un suo possibile oro, ma per come poi aveva distribuito, prima la semifinale con 9,94, poi prima la batteria con 9,94, successivamente la semifinale con 9,84, penso che tutti gli addetti ai lavori avrebbero ritenuto che questo ragazzo avrebbe potuto fare grandi cose anche in finale. C'è dei racconti visti da dentro, perché comunque da consigliera, immagino, insomma, i rapporti. Poi dicevamo, sei stata collega di Gimbo, come si dice, come hai chiamato, che tra l'altro ha anche alcuni legami con la nostra terra, con il nostro territorio, con la Romagna, da qui aveva ricominciato grazie anche all'aiuto di professionisti, di dottori eccellenti della nostra regione. Partiamo da Tamberi, che personaggio è? Beh, Tamberi, come descriverlo? È un personaggio, nel senso che sa, ha quello spirito che riesce a trascinare, che gli consente di trascinare proprio tutta la squadra, tutta la nazionale, è euforico, è un campione, un grandissimo campione, ma non al di là della prestazione agonistica, proprio anche per la sua capacità di comunicare agli altri e di trasmettere l'importanza di certi risultati. Quindi anche uomo squadra, si direbbe, nelle squadre, appunto, nei club. Sì, sì. Marcel, al contrario, è una persona più riservata, un grandissimo campione, sia lui che poi il suo allenatore, Paolo Camossi, che è stato comunque campione mondiale di salto triplo, indoor, quindi un grandissimo sportivo, però è, diciamo, meno esuberante. Tamberi, in particolare, ha realizzato qualcosa di grandissimo a queste Olimpiadi, perché, come sappiamo tutti, nel 2016 non ha potuto prendere parte ai giochi olimpici di Rio a causa della rottura del tendine d'Achille, proprio a ridosso della competizione, quando era l'uomo da battere, cioè l'uomo con 2,39, quindi riuscire a rivederlo cinque anni dopo a salire su quel gradino del podio che in qualche modo aveva perso a Tokyo, è stato un messaggio bellissimo, un messaggio bellissimo anche per lo sport, perché ha spinto un grande atleta a non mollare, a continuare a crederci, un po' come quello che è successo anche a Vanessa Ferrari a queste Olimpiadi, che alla sua quarta partecipazione olimpica, dopo numerosi quarti posti, finalmente ha coronato il sogno di una medaglia d'argento, quindi un messaggio, la forza dello sport la definirei. Ecco, tornando indietro allo scorso weekend, ci racconti come l'hai vissuto, partendo proprio da Tamberi, dicevi un oro meraviglioso, anche perché a differenza di Rio, dove sarebbe stato il favorito, qui il favorito era certamente il Kateriota Barshim, che era assolutamente il primo candidato, alla fine l'oro è arrivato in un modo un pochino particolare, anche perché c'era stato un po' di sconcerto, soprattutto per chi magari mastica poco il regolamento dell'atletica, ma soprattutto del salto in alto, quindi direi il 99% di chi era collegato alla TV in quei momenti. Tu come l'hai vissuto? Beh, Barshim aveva dimostrato di essere l'uomo da battere, ma quando io ho visto Tamberi nella finale era irriconoscibile, nel senso rispetto anche alle qualifiche in cui aveva dimostrato qualche incertezza, non una piena sicurezza, cioè nella finale si era trasformato. Lui da agonista com'è era irriconoscibile, irriconoscibile rispetto anche alle precedenti gare della stagione in cui comunque si era fermato, per esempio, a 2,20 metri. Ricordiamo 2,37, ricordiamo che ha saltato. Cioè, riuscire a fare una, a saltare fino a 2,37, ma senza un minimo errore, è qualcosa di enorme. Credo che proprio il fatto che i due ragazzi, quindi Tamberi e Mutaz Barshim, siano così legati da questo rapporto di amicizia, abbia spinto entrambi a optare per questa scelta, a optare per la scelta di un oro, diciamo, condiviso, un oro a 2. Se su quel gradino del podio, con Tamberi o con Barshim, fosse salito qualsiasi altro atleta, io credo che entrambi avrebbero optato per la possibilità, appunto, dello spareggio. Quindi scendere a quote minori, come 2,35, e risaltare. Anche poi sono state immagini bellissime, al di là dell'abbraccio, poi anche la premiazione che abbiamo visto con uno che ha, diciamo, messo una medaglia al colo all'altro, insomma, quindi assolutamente bellissimo. Poi c'è anche, come dire, la coincidenza della programmazione, perché nel giro di 20 minuti, di domenica, tra l'altro, quindi il giorno ideale, diciamo, per celebrare tutto quanto, si è passati dal salto alla pista. Lì, dicevamo, dell'avvicinamento di Jacobs, che è stato straordinario, un crescendo, evidentemente, guardando il cronometro. Quando è partito, cioè ai blocchi della finale, hai pensato a cosa? E soprattutto hai pensato a cosa quando l'hai visto arrivare? Beh, io ho pensato, in partenza, che comunque una medaglia l'avrebbe presa, cioè ha siglato questo 984 in semifinale e non riuscendo nemmeno ad uscire dai blocchi in modo ottimale, quindi ero sicura che una medaglia l'avrebbe conquistata. Da lì a prevedere l'oro è tutta un'altra cosa, anche perché avevo visto molto bene il cinese, che in bassoon, che in batteria aveva siglato questo 981 e quindi me lo aspettavo come un possibile avversario oltre comunque a De Grasse e oltre agli americani. E invece, cioè, non ce n'è stata per nessuno. Vincere il 100 per distacco è ancora più bello. La gara, mi permetto di dire, è più importante, secondo me, di tutti i giochi olimpici. Il simbolo delle Olimpiadi sono i 100 metri e in parte la maratona, quindi tutte le altre gare in un certo senso hanno meno risalto mediatico, non che siano meno importanti ovviamente, però come vincere i 100 metri? Un italiano non ha mai raggiunto minimamente un traguardo del genere, anzi nessun italiano era riuscito ad accedere alla finale dei 100 metri, quindi già questo è significativo. E poi essere il successore di Usain Bolt. Non è male. Panta roba. Non è male. Ti chiedo un'ultima cosa, Margherita, poi chiudiamo. Qui naturalmente lo chiedo soprattutto alla consigliera Fidal. Cosa significano questi risultati per il movimento? Perché certamente, parliamo, chiudiamo sulla politica sportiva, quindi sull'atletica leggera, c'era bisogno, no, di innaffiare il movimento con due medaglie, al di là dell'oro, però con due momenti come questo, ricordiamo, insomma, si veniva non propriamente da un periodo indimenticabile. No, anche perché a Rio l'atletica non aveva vinto nessun tipo di medaglie. A Londra 2012 c'era stato unicamente il bronzo di Fabrizio Donato nel salto triplo. Quindi tornare a casa con un bottino che al momento è costituito da due ori è veramente importante e credo che aiuterà molti, molti giovani ad avvicinarsi all'atletica, a frequentare le piste, a voler imitare anche questi, questi due fenomeni. Perché l'importante, ciò che spinge anche molti bambini a fare sport è proprio l'imitazione di personaggi sportivi di primo piano e al momento Jacobs e Tamberi sono gli uomini, sono tra gli uomini di copertina di questi giochi olimpici. li vediamo qui insomma l'immagine direi che è perfetta perché rendono perfettamente l'idea. Grazie a Margherita Magnani pronta con le valigie dunque per trasferirti in Kenya, Nairobi non proprio una passeggiata ma insomma è un appuntamento anche per il tuo incarico certamente di grande prestigio ricordiamo insomma i mondiali dopo Ferragosto in Kenya. Buon lavoro Margherita Magnani grazie per essere stati con noi il nostro viaggio all'interno dei giochi olimpici Tokyo 2020 termina di fatto qui come termina qui Extra Estate e il weekend grazie ancora e arrivederci Extra Estate è stata offerta da